Il consumo di cocaina, ecstasy ed anfetamini ci riguarderà nel 2012 un milione di persone, il 3% degli italiani tra i 15 e i 54 anni. Questi numeri del bollettino prodotto dal laboratorio previsionale sulle dipendenze della Lombardia. Un consumo in crescita anche perché spinto dai prezzi al ribasso, 13 euro per una dose di cocaina nel 2012, 7 euro per una dose di eroina brown. Abbiamo un mercato aggressivo, un mercato aggressivo che ha abbassato moltissimo i prezzi di quasi tutte le sostanze e che quindi adesso deve guadagnare sui volumi, sulla tanta gente che consuma. Nel 2012 il consumo di cannabis, il più accessibile come prezzi, potrebbe essere superiore del 35% rispetto al 2008. La cannabis, un passaggio quasi scontato per i giovani che intendono provare le droghe, ma anche un'abitudine sempre più consolidata per le generazioni mature che hanno iniziato negli anni dell'adolescenza. Infine l'eroina sembrava archiviata negli anni 90, invece non solo torna in auge ma potrebbe aumentare del 40% in termini di consumo nel 2012.